buongiorno vi dico subito che oggi voglio fare dei semplici paragoni per il semplice motivo che spessissimo voi mi chiedete dada ma che differenza c'è tra questo e questo prodotto e credo che la cosa migliore sia farvelo vedere ok allora innanzitutto parliamo di prodotti per dipingere sul appunto sulla pasta di zucchero e quant'altro i prodotti per la pittura sulla pasta di zucchero e vari altri materiali ovviamente sono tantissimi le possibilità sono molteplici dal semplice cacao per creare dei appunto dei disegni un po monocromatici tono su tono un po effetto vintage ai colori in polvere diluiti in alcol alle i colori in gel fino alle tempere alimentari che differenza c'è allora innanzitutto l'effetto finale che voi volete ottenere e adesso poi vi farò anzi io direi che vi potrei già girare così nel mentre che parlo vi spiego di cosa stiamo parlando quindi vi stavo dicendo pittura le possibilità quali sono possono essere il diluire del colorante in polvere in alcol in questo modo che cosa andiamo ad ottenere otteniamo un colore che tende ad asciugare molto velocemente per la presenza ovviamente dell'alcol cosa che però non non si ottiene semplicemente coi colori in gel poi la possibilità appunto di usufruire di colori in gel che però essendo gel quindi base acqua tendono a non asciugare ok tengono a rimanere comunque sempre un po umidi sempre un po appiccicatici e quindi il rischio è quello poi di non poter andare a toccare il il lavoro e quindi il rischio è anche di andarlo ovviamente a rovinare oppure la possibilità di utilizzare dei prodotti diciamo specifici proprio per la pittura come ad esempio le tempera alimentari in commercio ce ne sono ovviamente come sempre succede di diverse di diverse marche io volevo ovviamente oggi farvi parlarvi comunque dei dei nostri b painting ok questo è il b painting magenta ci prendiamo un pennello perché volevo farvi vedere un po di possibilità allora se noi prendiamo ad esempio qui abbiamo un painting giallo ok innanzitutto prima domanda che mi fate spessissimo i b painting non vanno diluiti ok non vanno diluiti l'unica cosa che dovete fare quando aprite la confezione è quella di mescolare quella che è la parte oleosa quindi la parte diciamo che rimane in superficie dai pigmenti di colore in questo modo ok cosa sono le tempere le tempere sono dei colori appunto nati per la pittura e hanno una base mista olio acqua quindi che cosa succede succede che nel momento in cui io vado a dipingere il mio il mio substrato ho un effetto immediatamente coprente come potete vedere la stessa cosa succede se io questo ovviamente è pasta di zucchero che io mi ero momentaneamente già preparato che io mi ero precedentemente preparata la stessa cosa succede se prendiamo la nostra tempera e andiamo su un colore molto scuro come può essere la pasta di la pasta di zucchero nera ok come vedete ho un effetto assolutamente coprente anche su un colore molto scuro come può essere la pasta di zucchero nera non contenta di tutto qua di tutto questo io vabbè questo è un pezzo di uovo di cioccolato che poverino io ho martorizzato con le mie con le mie prove se noi prendiamo sempre la nostra tempera alimentare e andiamo a dipingere sul cioccolato abbiamo comunque un effetto assolutamente coprente questi sono i nostri colori per aerografo a base alcol e tra un po' facciamo anche la distinzione vi faccio vedere le di cosa parliamo quando parliamo di un colorante a base alcol piuttosto che di un colorante a base acqua i nostri colori aerografo possono essere paragonato paragonati diciamo così ai colori a prendere della polvere diluendola in in alcol sul bianco io ho un effetto non so se riuscite a vederlo ciao claudia un bacio ciao ciao vaico come potete vedere l'effetto è sicuramente un ottimo effetto ma è meno impattante rispetto alla tempera perché perché utilizzato in a pennello i colori a base alcol vi danno un effetto un pochino più velato andando poi a insistere riusciamo ad ottenere delle nuance più scure vediamo che effetto fa a pennello su una pasta di zucchero scura ad esempio come vedete l'effetto è leggermente visibile ok c'è la differenza madornale tra l'utilizzo di una tempera quindi di un ciao mai grazie tesoro ciao maristella la differenza tra una tempera e quindi un prodotto che è nato per essere utilizzato per la pittura e un prodotto che invece non è nato per essere utilizzato a pennello ok nelle mie demo mi vedete spessissimo utilizzare i colori aerografo per la pittura ma avrete notato che li utilizzo solo in determinate situazioni quindi solo su pasta di zucchero bianca perché proprio per questo motivo ok il prodotto a base alcol mi asciuga subito perché l'alcol evapora ma non ha a pennello un effetto coprente grazie natasha anche a te cara tesoro non ha a pennello un effetto coprente tanto quanto un colore nato per la pittura vediamo sul cioccolato sul cioccolato abbiamo un effetto un pochino più coprente ok proprio perché l'alcol in questo ci aiuta ma se andiamo come vedete a spennellare il colore l'effetto praticamente si perde ciao simona è tutto vi faccio vedere la colorazione della pasta di zucchero ora vabbè questa era macchiata la colorazione della pasta di zucchero utilizzando ad esempio in questo caso un po di tempera gialla quindi ci mettiamo un po di tempera sulla pasta il resto lo rimettiamo ecco è caduto il pennellino andiamo a adesso mi sporcherò tutte le mani perché ovviamente non ho messo i guanti è una cosa ecco qui aspettate ecco qua e la pasta di zucchero è stata colorata come vedete non è particolarmente appiccicaticcia anzi cosa che invece succede quando utilizziamo i colori in quando utilizziamo i colori in in gel ok se ne aggiungiamo alimentari sono quelle che io ho utilizzato come punto di partenza per fare il il libro il nostro libro i 60 colori di zucchero ok con il il quale voi potete andare a ricreare più di 60 più di 50 diverse tonalità di colore partendo da pasta di zucchero gialla nera ciano magenta e bianca ok ovviamente anche il libro lo trovate su www.bimagenta.it aspettate che dovrei averne eccolo qua una copia eccolo qua quindi partendo da questi quattro colori più il bianco io vi do le dosi per ottenere più di 50 diversi colori come potete vedere è un libro sicuramente molto utile però tale vi ricordo ancora se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al nostro canale youtube bimagenta ogni giorno un tutorial nuovo quello di oggi è già stato pubblicato circa un'ora e un quarto fa e vi anticipo già che nel video tutorial di oggi facciamo vaiana quindi sbizzarritevi signori grazie infinite di tutto vi auguro un buon weekend non ci abbandonate perché abbiamo in serbo una sorpresina per voi anche questo weekend direi che noi ci vediamo lunedì baci baci ciao 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 ciao